19 febbraio 2002. La sonda della NASA Mars Odyssey inizia la mappatura del pianeta Marte. La sua missione consiste nel cercare la prova della presenza, attuale o passata, di acqua e attività volcanica sul pianeta. A fine maggio la NASA annuncia che la sonda ha rivelato sul pianeta rosso notevoli quantità di idrogeno, probabilmente indice della presenza di ghiaccio nel sottosuolo.